In scena, Sally per essere l'auto più affascinante di Radiator Springs è anche una loro grande amica. In città, i due amici incontrano Sally insieme a Red. Ehi là, saluta Saetta. Io e Cricchetto stiamo cercando qualcosa di divertente da fare. D'un tratto, il sole fa brillare la carrozzeria di Sally. Fischia, esclama il carroattrezzi. Sì, sembri nata per stare sotto le luci della ribalta. Grazie, Cricchetto, sorride la berlina. Mi hai suggerito un'idea. Ve lo dirò al caffè di Flo. Stasera metteremo in scena uno spettacolo di auto alla vecchia maniera, spiega Sally una volta arrivati al caffè. Oh, ragazzi, esulta Flo. Sono sicura che ci divertiremo un sacco. Faremo lo show proprio qui, alla tavola calda. Sally ringrazia l'amica, poi chiede di spargere la voce. La notizia fa di me l'auto più felice del mondo, esclama Luigi. Questo significa un sacco di affari per la casa della gomma. Guido annuisce soddisfatto. Ramon accetta entusiasta la proposta di riverniciare le auto per lo spettacolo. Per fortuna ho appena fatto scorta di vernici colorate, spiega Sally, l'artista della carrozzeria. Sally torna al mozzo della ruota per preparare in ogni minimo dettaglio il programma del grande show. E dopo un po' Saetta la raggiunge. Sono davvero tutti emozionati, la informa il campione. Cerca di metterti in coda per tempo all'autolavaggio. Ricordati che sarai tu la star della serata. Per la messa a punto, Sally inizia dal negozio di gomme. Luigi, avrai bisogno di due pneumatici nuovi di zecca. Qualsiasi cosa per lei, signorina Sally, le dà il benvenuto Luigi. E insieme a Guido si mette subito al lavoro. Dopo il cambio delle gomme, Sally va all'autolavaggio. Sul ciglio della strada, però, vede un'utilitaria grigia con i lampeggianti accesi. Hai bisogno di aiuto? domanda Sally. Mi chiamo Marty, dice la vettura. Sono uscito dall'autostrada per fare benzina e mi sono perso. Seguimi, lo invita Sally facendogli strada. Al caffè di Flo troverai ciò che ti serve. Mentre l'utilitaria fa il pieno, Sally studia la cartina. Marty è a ventimiglia dalla meta. Oh no, dice il forestiero, sono in ritardo per una riunione. C'è una scorciatoia, precisa Sally, ma dovrai passare in una zona piuttosto dissestata. In quel momento arriva Saetta e l'amica gli presenta Marty. Lo accompagnerò fino alla scorciatoia per l'autostrada, spiega la berlina. E lo spettacolo sbotte il campione? Partendo ora, mi rimarrà un sacco di tempo, concluse Sally. Sally e Marty attraversano la Ornamen Valley fino a imboccare una vecchia strada polverosa nel deserto. Giunti all'autostrada, Marty ringrazia con un colpo di claxon e Sally si affretta a tornare a Radiator Springs. Il tempo passa e lei non vuole certo perdere lo show. La berlina arriva qualche minuto prima dello spettacolo, ma è impolverata e ha una gomma a terra. Così conciata a Sally, conviene tornarsene a casa. Manca poco, esclama Flo appena la vede. È troppo tardi, replica Sally, sono tutta sporca e non c'è tempo per ripulirmi. Non è mai troppo tardi, la rassicura Saetta che arriva di corsa insieme a Red, Cricchetto, Luigi e Guido. In pochi minuti l'autopompa le lava via la polvere e Guido le cambia lo pneumatico sgonfio. Sei la più bella, Sally, esclama Cricchetto, e la più gentile, aggiunge Saetta. Senza il tuo aiuto, Marty, non se la sarebbe cavata. Grazie, risponde l'affascinante berlina. Voi ragazzi siete i migliori. Sally sale sul palco, entusiasta di sfilare come una star, ma non sono le luci della ribalta a farla brillare di felicità. Lei sa di poter sempre contare su degli amici straordinari. Fine